Benvenuti a bordo di Italo, 99, 26, da Napoli Centrale, a Milano Porta Garibaldi, il treno si fermerà a Milano Rogoreto, Milano Porta Garibaldi. Benvenuti a Italo, 99, 26, da Napoli Centrale, a Milano Porta Garibaldi. Il treno si fermerà a Milano Rogoreto, Milano Porta Garibaldi. Il treno si fermerà a 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 Milano Porta Garibaldi. Grazie a tutti. 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 a tutti.